ci siamo ci siamo ragazzi quanto è mancato il video del giorno prima quanto vi è mancato a me un po è mancato ragazzi finalmente si riparte si ricomincia si rinizia domani scenderà la frentina in campo ammarassi contro il genoa il genoa del nostro ex attaccante alberto girardino riparte la serie a riparte un tour de force ragazzi neanche siamo partiti già parliamo di tour de force perché la fiorentina da qui al 31 agosto scenderà in campo per la bellezza di quattro volte dal 19 al 31 agosto esattamente in 11 giorni la fiorentina scenderà in campo quattro volte due di serie a e due di conference league ragazzi bentornati al viola show perché io mi auguro che quest'anno sia veramente un viola show allora come sempre prima di tutto ragazzi se vi va questa stagione se siete ancora voi che mi seguite a tempo ragazzi pronti per vivere una nuova stagione in compagnia mia se vi capita questo video per la prima volta dicevo chi l'è questo che chiacchierà così allora ragazzi mister viola se vi va seguitemi vi iscrivete a questo canale lo condividete con tutti i vostri amici e tifosi viola commentate ragazzi voglio sapere la vostra formazione domani chi fareste scendere in campo ma soprattutto ragazzi vi ricordo come sempre gli altri miei due social facebook e instagram facebook il gruppo dove potete pubblicare anche le vostre news informazioni instagram ovviamente è l'altro social che uso seguite anche gli amici di space di ola mi raccomando ragazzi vi lascio anche il loro link qua sotto in descrizione ho scelto in copertina artur melo perché devo dire che un po tutti ci aspettiamo qualcosa da artur melo che è stato quel giocatore arrivato un po anche in dubbi perché insomma un giocatore che da due stagioni possiamo dire non fa benissimo però è stato sicuramente uno di quei centrocampisti più attivi più in voga per tutta la preparazione estiva ragazzi e non solo lui devo dire anche sabiri al piede caldo quindi pronti a vivere genoa fiorentina ragazzi in una firenze dove arriva rocco comisso visita il viola park contentissima ha parlato del calciomercato che non si è sbilanciato ma qualcosa arriverà ancora ha detto abbiamo fatto una squadra più forte dell'anno scorso pradè che si sbilancia sua malabatte dice se troviamo una soluzione bene altrimenti rimane e saremo felici lo stesso su castro ha detto ha voluto questa questa nuova operazione castro ha fatto una lettera di addio pradè per ora non ha annunciato nessuna cessione imminente del giocatore infatti ha detto noi lo aspettiamo però castrovilli lascia la 10 ragazzi in una in una giornata quella di ieri che ha visto dare i numeri e la 10 è finita dietro alle spalle di nico gonzalez io vi dico la verità l'avrei data jack buonaventura ma questa è la mia opinione è la mia versione l'avrei data jack per tanti motivi io mi auguro che jack in qualche modo possa comunque continuare a dare soddisfazioni perché secondo me jack buonaventura se le merita tutte i giocatori secondo me cioè veramente quando non ho parole per jack buonaventura mettiamola così detto questo ragazzi il 10 anni con sai siete d'accordo o meno va bene nel senso sicuramente mi fa piacere perché si investe un giocatore che sicuramente è arrivato uno dei più pagati dell'era commisso anche della storia della fiorentina in generale perché nessuno è arrivato a quelle cifre un giocatore che è stato molto chiacchierato l'argentina si allenava non si allenava poi ha detto firenze io sto qui bacio lo scudetto insomma un numero 10 importante il 10 a firenze ragazzi secondo me finalmente va dietro le spalle un giocatore che ha classe comunque che può veramente scrivere grandi pagine di storia della fiorentina dopo le ultime annate che togliendo castrovilli che sicuramente è stata un'investitura anche dovuta al fatto del ragazzo giovane della bella speranza insomma negli anni passati dopo mutuo così e così detto questo ragazzi io sono molto emozionato di questo genoa fiorentina e devo dire che sono emozionato sbarra preoccupato dice no mister come non si è neanche iniziato già tu sei preoccupato no non sono preoccupato nel senso è un tour de force che comunque la fiorentina sarà chiamata a fare vi do anche un'info di mercato quarta è pronta all'addio su di lui c'è molto il betis la fiorentina tra l'altro dovrà comunque prendere un altro difensore centrale si sta lavorando tanto e secondo me il mercato in entrata non è finito qui questa è la mia visione perché attenzione anche qua a me secondo me è quel jolly che secondo me l'italiano dice ok me lo posso tenere però secondo me la società sta provando a piazzarlo idem con patate secondo me jovic ma al di là del mercato che se ne è parlato tanto in queste settimane perché di calcio giocato a parte quello estivo e la sella cup e le amichevole non se ne è parlato altro concentriamoci sulla sfida di domani partita importantissima da non sbagliare perché chi ben comincia la metà dell'opera tra l'altro per non sbagliare anche a crearsi un'autofiducia di se stesso cioè la fiorentina è più forte l'anno scorso beh sulla carta molti direbbero di se io vi dico aspettiamo il campo darà ragione a chi dice di sì e a chi dice di no io mi auguro ovviamente di dar ragione a chi dice di sì sono arrivati giocatori funzionali per il progetto della fiorentina chiesti dal tecnico italiano l'ha detto convintissimo del progetto artur insieme a sabiri a bonaventura credo abbiano costruito un grande centrocampo con un fantomatico ambarabat che rimanga o meno un mandraio che comunque l'anno scorso in alcune occasioni ha fatto bene insomma devo dire che è una formazione che mi dà belle speranze che scenderà domani in campo e ragazzi questo è un è un è un indovinello anche perché italiano ci ha sempre abituato un po a a non scoperchiare le carte e a rimescolarle anche all'ultimo minuto ovviamente queste quattro partite contro il rapid bulcares che ha vinto 5 a 0 ritorno contro il de brecciani sarà lui quindi l'avversario affronteremo i playoff di conference league in questa doppia sfida prima laggiù e poi in casa siamo fortunati su questo la fiorentina avrà genoa rapid lecce rapide quindi insomma quattro partite importantissime domani iniziamo a marassi con uno stadio sgremito perché 27 mila abbonati più chi pagherà il biglietto un alberto girardino che comunque ha detto siamo un canteri aperto ma stanno per chiudere malinoschi quindi hanno tantissimi infortunati devo dire la verità domani un genoa con quattro out sicuri tra l'altro quattro probabilmente anche i titolari con dei giocatori che magari è la prima volta che vedano la serie a o comunque mancano dalla serie a diverso tempo un cantero aperto pensiamo ai 40 punti frasi di circostanza di alberto girardino come è giusto che sia dall'altra parte una fiorentina che sa che deve dimostrare sa che deve partire alla grande deve partire bene perché partire con tre punti vorrebbe dire anche grande fiducia per la trasferta contro il rapid bucarest vorrebbe dire poi di presentarsi contro il lecce avendo magari una doppia vittoria un filotto di vittorie insomma io mi auguro questo per l'inizio della fiorentina che se lo meriterebbe chi gioca però domani in porta terracciano sappiamo che ovviamente christensen potrebbe esordire in conference league probabilmente o addirittura forse con il lecce comunque domani giocherà terracciano la difesa con milenkovic titolarissimo per probabilmente distrazione di mercato quarto dovrebbe essere lasciato a riposo con la possibilità di vedere o ranieri o gerry mina per quanto riguarda il compagno di milenkovic sulle esterne biraghe dodò sicurissimi del posto a centrocampo mi aspetto buona avventura con artur melo e probabilmente uno tra mandagola e sabiri a questo punto anche se attenzione ci potrebbe essere la sorpresa d'uncan che quest'anno credo rimanga la fiorentina perché ha convinto italiano la davanti mi aspetto un tridente particolare se consideriamo il 4 3 3 mi aspetto gonzalez e con e ad agire sulle corsie con la punta punto interrogativo con la punta ci mettiamo il punto interrogativo perché non credo partirà nzola dal primo minuto né tantomeno beltran e ci sta che parta jovic ragazzi ci sta che parta jovic con la possibilità di inserire eventualmente nel secondo tempo nzola attenzione a cocorin perché credo che cocorin in questo momento sia molto in forma e sia molto tenuto in considerazione dal tecnico ricordiamoci ragazzi che giocheremo 4 partite nel giro di 10 giorni quindi giocheranno tutti avranno tutti spazio e credo che questo spazio verrà utilizzato anche per convincere l'anatore e nelle ultime trattative di mercato quindi questa è la mia formazione quello che penso io mi aspetto la vostra nei commenti qua sotto ragazzi ci vediamo domani per il post partita ragazzoli torna il giorno prima e torna il post partita e torna il giorno dopo si torna a parlare di fiorentina e io sono di molto contento forza viola